Ci troviamo a Palazzo delle Aquile a Palermo per consegnare al sindaco della città di Palermo un dono speciale che è l'olio legale, l'olio prodotto da beni confiscati alla mafia che sono gestiti dal comune e che abbiamo voluto mettere in questa latte e dedicare alla beatificazione del giudice Rosario Livatino. Per la città di Canicattì questo è un atto importante del quale vogliamo far dono al sindaco del capoluogo della regione, Leoluco Arlando, per tutto quello che ha fatto per la nostra regione e che sta facendo per la sua città. Grazie in condivisione di impegno.